Sospeso lo sciopero dei lavoratori AST-SPA, proclamato per oggi, la decisione dei lavoratori è arrivata in seguito ad una lettera di sensibilizzazione scritta da Marco Falcone, assessore alle infrastrutture e alla mobilità della regione siciliana, e rivolta alle organizzazioni sindacali di categoria. L'invito alla sospensione dello sciopero da parte dell'assessore ha messo in evidenza le difficoltà che si sarebbero create per l'utenza in un momento particolarmente delicato, a pochi giorni dalla ripresa delle attività scolastiche con condizioni climatiche avverse nell'isola. Nella replica, la nota firma di Agostino Falanga, Franco Spanò e Dioniso Giordano, rispettivamente segretari generali in Sicilia della Will Trasporti, della Filt CGL e della FIT CISL, hanno affermato Ancora una volta, i lavoratori dell'azienda siciliana Trasporti manifestano il grande senso di responsabilità, anteponendo alle proprie rivendicazioni le esigenze degli utenti e della collettività. Resta confermato l'auspicio che tale scelta possa favorire la ripresa del confronto costruttivo con l'azienda, finalizzato a risolvere le problematiche perché hanno indotto alla proclamazione dello sciopero ed evitarne la riproposizione, hanno poi concluso. Lo sciopero era stato indetto ai sindacati confederati per un rifiuto di Gaetano Tufuri, presidente dell'Ast, ad un confronto con i sindacati confederati, che avevano messo in evidenza il distesso economico e l'azienda, che avrebbe potuto provocare, a detta di Falanga, Spanò e Giordano, il fallimento della stessa con la conseguente perdita di centinaia di posti di lavoro. Una situazione a cui i sindacati hanno chiesto di porre rimedio prima che il distesso sia irreversibile, avevano ulteriormente sottolineato.